La chiamano Istamina perché è allergica a tutto, a iniziare dalle imposizioni. È divertentissimo questo libro di Eric Orsenna che racconta la storia della principessa Istamina che sogna il principe azzurro e da grande non sa ancora cosa farà, tranne che sarà sicuramente una donna molto simpatica. Ogni libro di Daniel Pennac che io considero uno dei più grandi autori contemporanei è una sorpresa e lo è anche questo, storia di un corpo, il diario di una persona dall'età di dieci anni fino alla morte attraverso le sensazioni del corpo che poi si avvicinano moltissimo a quelle dell'anima ma è un punto di vista particolare che ne fa un libro tutto da godere. Kilian ha 24 anni e quando ne aveva 5 aveva già scalato due montagne. La passione per la corsa ce l'ha proprio dentro, nel sangue e oggi è uno dei più famosi runner al mondo. D'inverno fa sci alpinismo, d'estate corsa, sempre sfidando i suoi limiti. E infatti ha intitolato questo libro Correre o Morire dove in realtà lo sforzo estremo che lui si propone nella vita correndo è un po' la metafora di un sogno che tutti noi abbiamo dentro. Le donne si sa sono disposte a tutto pur di avere vicino un compagno ma soprattutto pur di trovare l'amore. E Rosa Matteucci che è una delle più interessanti scrittrici italiane dell'ultima generazione racconta molto bene questa ricerca disperata. Nel suo ultimo romanzo le donne perdonano tutto tranne il silenzio riferito al silenzio di chi lascia naturalmente e di chi non spiega. Protagoniste due donne i cui destini si incrociano. Oggi è di gran moda la cucina vegana o vegetariana e questo cucchiaio arcobaleno racchiude ricette che provengono da tutto il mondo e che hanno come base la frutta e la verdura. La cosa divertente è che davvero si fa un viaggio nella cultura oltre che nella cucina di tutto il mondo e si scoprono cose ovvie e meno ovvie, ingredienti particolari ai quali si affezioneranno anche coloro che non amano necessariamente il vegetariano. Con l'aiuto di Carlo Brambilla che è un giornalista non della Padania bensì dell'Unità Roberto Maroni si racconta, racconta il sogno dei barbari come si è chiamato il suo movimento che ha preso saldamente in mano le redini della Lega dopo Bossi si racconta con molta sincerità e fa un'analisi politica dal punto di vista della Lega ovviamente di quello che è l'Italia oggi. L'uomo costruisce case perché vivo ma scrive libri perché è mortale.